Ciao a tutti, io sono Lidia, lui è Marte e oggi farò un bello scherzo a Nadia e lui ovviamente sarà mio complice Pronto Marte? Miau? Non sei pronto? Ciao! Comunque, oggi farò finta che Marte mi graffia appunto qui ho i trucchi e sono pronta a disegnarmi una bella feritona Sì, sei pronto? Iniziamo! Il mio complice, vuoi aiutarmi tu? Cosa dobbiamo fare? Non te lo ricordi? Pazienza Comunque, ve lo dico io cosa dobbiamo fare Dobbiamo aprire questo Prendere i nostri ormai cari trucchi, li conosciamo bene Prendere il nero e iniziare a fare la forma della ferita Ho fatto la ferita, non sembra proprio una vera ferita Ma forse ci cascherà Tu Marte, cosa speri? Sì o no? Tu ci fai il bagno Ovviamente a Lidia non andava bene quella ferita che si era già fatta Perciò se ne ho fatta un'altra sull'altro braccio Sì, non mi piaceva tanto quella che avevo fatto e ora l'ho fatta sull'altro braccio Ho trovato un modo per farla bene Oh no, Marte mi ha graffiata Marte, perché? Mi è incadita Io non ho fatto niente A me importa solo le carte A me importa solo le corti Ora, mentre aspetterò che Nadia arriva Accarezzerò Marte Una carezza Due carezze E Marte Tre carezze Quattro carezze Cinque carezze E speriamo che Nadia ci crederà Allora, mentre accarezzo il mio caro amico Marte Devo prepararmi qualcosa Allora Facciamo che io ero lì tranquilla ad accarezzare Marte Come sto facendo ora E poi lui si è arrabbiato Non so perché Forse ha visto una mosca Eh, ma non graffiarmi davvero Qualcosa E si è arrabbiato E mi ha graffiata E così Però finta che mi ha graffiata Ma se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Per non perdervi altre avventure così Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ok Fatelo Sennò non smetterai di trotturarli Sono pronto, basta che dopo mi dà le crocchette, quanto sei carino, ma la verità, eccola, intanto, quanto ci mette ad arrivare? Con la tua coda tra poco mi cancellava la finita finita, quanto è carino, oh no, Marte mi sta graffiando, io non ti faccio proprio niente, mi mette solo le mani sopra, le zampe sopra le mani, tutto il bello, le zampe, qua, lì, ovunque, stanno arrivando, ho appena sentito la porta ad aprirsi, sento parlare, sono per arrivare, aiuto Nadia, aiutami, Nadia, aiutami, Nadia, Marte mi ha graffiata, no, fa tanto male, povera te, guarda che graffio pieno di sangue, oh no, perché, cosa lo stavi facendo? Lo stavo accarezzando normalmente, lui non so, forse ha visto una zanzara, un incerto, un insetto che gli dava fastidio, mi ha graffiata, e mi ha fatto pure, cioè, si è pure arrabbiato con me, mi ha fischiata, ha fatto, oh no, questo ti schiava l'insetto, eh sì, però mi ha fatto tanto male, guarda che graffione, sono molto dispiaciuta per te, ci sei cascata, bene ragazzi, lo scherzo è riuscito, l'avventura di oggi si può concludere qui, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura, ciao!